Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto Alcatel, adesso andiamo a eseguire l'unboxing. Nella parte posteriore ci sono i vari riferimenti sia del mittente che del destinatario, quindi per motivi di privacy abbiamo utilizzato il retro della busta, questo è il telefono, come vedete il packaging, parliamo appunto di un telefono che come già si intuisce ha una vena da messenger, il telefono come vedete è posto in una confezione elegante, è finestrato su tre lati, come vedete quindi insomma il prodotto si riesce a vedere anche bene, si riesce appunto ad ammirare il prodotto con buona facilità anche presso il punto vendita. Adesso andiamo ad aprirlo. all'interno della scatola non c'è nient'altro, qui abbiamo un telefono, qui abbiamo degli auricolari dotati di connettività mini USB come potete vedere, abbiamo poi anche l'insieme di istruzioni principali, vedete vi fa in pratica un riassunto sui primi passi da fare piuttosto su come appunto potersela cavare nelle situazioni di utilizzo più comune, abbiamo certificato di garanzia e il ringraziamento, praticamente il memo per quanto riguarda i numeri dei centri di assistenti. Abbiamo poi il boxettino che c'era la base, questo in pratica è solo un cartone per mantenere in ordine il packaging di vendita, sulla base troviamo la batteria, cavo USB mini USB, carica batterie da muro mini USB, il carica batterie manda in uscita 5V 400mA. Adesso passiamo al telefono vero e proprio, dotato di camera, dotato di rotella sul fianco, dotato di entrata USB, nonché lettore micro SD. Eccoci qui. Per quanto riguarda il display ovviamente sarà da togliere poi l'adesivo presente sullo stesso, inserire la batteria, inserire la sim e iniziare a utilizzare questo messenger. L'unboxing termina qui con la batteria, il cavo USB, il caricabatterie da muro, gli auricolari e poi i vari manuali presenti all'interno del packaging di vendita. L'unboxing come dicevo appunto termina qui, non c'è altro da mostrarvi all'interno della scatola, quindi vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale così da non perdere i prossimi unboxing, recensioni, chicche in esclusiva che realizziamo per voi. Ci vediamo online, a presto e sicuramente a breve realizzeremo il video sull'inserimento della sim, la prima accensione di questo messenger di Alcatel. Intanto vi saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.